ciao a tutti oggi vi presento questo fantastico motivo traforato sono dei tulipani selvatici sono è un motivo che non è propriamente adatto alle principianti perché ci sono molti diciamo ferri e soprattutto ci sono molti gettati quindi bisogna stare un po attenti bisogna saper lavorare le diminuzioni e soprattutto semplici ma anche le diminuzioni doppie però nessuno vieta di poterlo provare a fare vi faccio vedere come si presenta sul davanti e come si presenta sul dietro i ferri di ritorno ferri pari le maglie vengono lavorate tutte a rovescio quindi nessuna nessun problema i gettati naturalmente vengono lavorate a rovescio e bisogna stare attenti perché se si perdono non torna il motivo allora il motivo si realizza in 19 maglie quindi è un multiplo di 19 quindi in questo caso io ho fatto due motivi per cui ho montato 19 più 19 alle quali aggiungiamo poi le 4 di vivagno cioè due per ogni lato che andranno a formare il bordino per quanto riguarda l'altezza il motivo si realizza in 32 ferri dopodiché si rincomincia da capo allora questo è un motivo un po particolare nel senso che possiamo utilizzarlo ad esempio come lo vediamo in questo momento quindi facendo praticamente dei tulipani uno affianco all'altro oppure possiamo utilizzare un solo tulipano per esempio quindi un solo motivo da abbinare ad esempio ad altri motivi che possono essere sempre dei traforati oppure magari delle trecce o ancora possiamo utilizzare questo motivo e poi sfalsarlo e quindi ad esempio realizzare un tulipano sopra però al centro tra questi due naturalmente in questo caso dovete farvi alcuni calcoli è un motivo che possiamo utilizzare per svariati progetti e progetti estivi possono essere ad esempio delle maglie delle gonne dei vestiti oppure delle canottiere eccetera possiamo anche utilizzarlo per dei capi ad esempio invernali in cardigan maglioni ma anche ad esempio per delle coperte per delle coperte possiamo realizzarlo o come ad esempio una sorta di motivo oppure possiamo utilizzarlo ad esempio come apri copertina nel senso che magari possiamo realizzare una coperta che ha i bordi fatti a forma di tulipano naturalmente qui sotto magari andate a mettere una maglia legaccio un punto riso quello che più vi piace andiamo adesso a vedere come si realizza ho montato sul ferro un totale di 42 maglie vado a fare due motivi quindi 19 più 19 più le quattro di vivagno cioè due per ogni lato che andranno a formare il bordino partiamo dal primo ferro e andiamo a lavorare insieme un solo motivo vivagno vi lascio qui sopra il link che vi riporta come fare il vivagno quattro diritti 1 2 3 e 4 2 maglie insieme a diritto un gettato un diritto un gettato due maglie insieme a diritto un diritto una diminuzione semplice sposto una maglia sul ferro di destra senza lavorare lavoro la seconda maglia a dritto e a cavallo la prima sopra la seconda un gettato un diritto un gettato una diminuzione semplice quattro diritti 1 2 3 e 4 andiamo a ripetere questo motivo secondo ferro vi bagno tutte le maglie a rovescio attenzione al gettato che va comunque lavorato a rovescio fino alla fine del ferro terzo ferro vivagno 3 diritti 2 maglie insieme a diritto un gettato due diritti un gettato una diminuzione semplice un gettato due diritti un gettato una diminuzione semplice tre diritti 1 2 e 3 ripetiamo questo motivo quarto ferro tutte le maglie a rovescio quinto ferro vivagno due diritti due maglie insieme a diritto un gettato due maglie insieme a diritto un diritto una diminuzione semplice un gettato una diminuzione semplice un gettato tre diritti un gettato una diminuzione semplice due diritti ripetiamo questo motivo sesto ferro tutte le maglie a rovescio settimo ferro vi bagno un diritto due maglie insieme a diritto un gettato quattro diritti uno due tre e e quattro un gettato una diminuzione semplice un gettato quattro diritti uno due tre e quattro un gettato una diminuzione semplice una diminuzione semplice una diminuzione semplice un diritto ripetiamo questo motivo ottavo ferro tutte le maglie a rovescio nono ferro vivagno due maglie insieme a diritto un gettato cinque diritti uno due tre quattro e cinque un gettato due maglie insieme a diritto due maglie insieme a diritto due maglie insieme a diritto un diritto una diminuzione semplice un gettato cinque diritti uno due tre quattro e cinque un gettato una diminuzione semplice ripetiamo questo motivo decimo ferro tutte le maglie a rovescio undicesimo ferro vivagno un diritto un gettato due maglie insieme a diritto due diritti uno e due lavoriamo adesso due maglie insieme a diritto un gettato per due volte quindi due maglie insieme a diritto e un gettato e sono 12 maglie insieme a diritto e un gettato e sono due un diritto lavoriamo un gettato una diminuzione semplice per due volte un gettato e una diminuzione semplice e sono uno un due diritti una diminuzione semplice un gettato e un diritto andiamo a ripetere questo motivo dodicesimo ferro tutte le maglie a rovescio tredicesimo ferro vivagna un diritto un gettato due maglie insieme a diritto un diritto due maglie insieme a diritto un gettato per due volte due maglie insieme a diritto un gettato e sono 23 diritti 123 un gettato e una diminuzione semplice per due volte un gettato e una diminuzione semplice e sono uno un gettato e una diminuzione semplice e sono due un diritto una diminuzione semplice un gettato e un diritto ripetiamo questo motivo quattordicesimo ferro tutte le maglie a rovescio quindicesimo ferro vivagna un diritto un diritto un gettato due maglie insieme a diritto due maglie e un gettato due maglie insieme a diritto e un gettato due maglie insieme a diritto e un gettato 5 diritti 1 2 3 4 e 5 un gettato una diminuzione semplice di nuovo un gettato una diminuzione semplice una diminuzione semplice un gettato e un diritto ripetiamo questo motivo sedicesimo ferro tutte le maglie a rovescio diciassettesimo ferro vivagna un diritto un gettato tre maglie insieme a diritto quindi un gettato due maglie insieme a diritto un gettato sette diritti uno due tre quattro cinque sei e sette un gettato una diminuzione semplice un gettato una diminuzione doppia spostiamo due maglie sul ferro di destra senza lavorare lavoriamo la terza maglia a dritto e accavalliamo le due non lavorate sopra quella lavorata un gettato e un diritto ripetiamo questo motivo diciottesimo ferro tutte le maglie a rovescio diciannovesimo ferro vivagna un diritto due maglie insieme a diritto un gettato due maglie insieme a diritto cinque diritti uno due tre quattro cinque una diminuzione semplice un gettato due diritti un gettato una diminuzione semplice un diritto ripetiamo questo motivo ventesimo ferro tutte le maglie a rovescio ventunesimo ferro vivagna cinque diritti uno due tre quattro cinque un gettato due maglie insieme a diritto 5 diritti uno due tre quattro cinque una diminuzione semplice un gettato cinque diritti uno due tre quattro cinque uno due tre quattro cinque ripetiamo questo motivo ventiduesimo ferro tutte le maglie a rovescio ventitresimo ferro vivagna cinque diritti uno due tre quattro cinque diritti uno due tre quattro cinque un gettato due maglie insieme a diritto cinque diritti uno due tre quattro e cinque una diminuzione semplice un gettato cinque diritti uno due tre quattro e cinque ripetiamo questo motivo ventiquattimo ferro e cinque ripetiamo questo motivo ventiquattimo ferro tutte le maglie a rovescio venticinquesimo ferro vivagna cinque diritti uno due tre quattro e cinque un gettato due maglie insieme a diritto per due volte quindi 12 maglie insieme a diritto e 22 maglie insieme a diritto un gettato un diritto un gettato una diminuzione semplice per due volte quindi diminuzione semplice e sono uno diminuzione semplice e sono due un gettato cinque diritti uno due tre quattro e cinque ripetiamo questo motivo ventiseiesimo ferro tutte le maglie a rovescio ventisettesimo ferro vivagna cinque diritti uno due tre quattro cinque un gettato tre maglie insieme a diritto un gettato tre diritti uno due tre un gettato una diminuzione doppia spostiamo due maglie sul ferro di destra senza lavorare la terza la lavoriamo a dritto e accavalliamo le due non lavorate sopra quella lavorata un gettato cinque diritti uno due tre quattro e cinque ripetiamo questo motivo ventottesimo ferro tutte le maglie a rovescio ventinovesimo ferro vi bagno tutte le maglie a diritto fino alla fine del ferro trentesimo ferro tutte le maglie a rovescio trentunesimo ferro di bagno tutte le maglie a diritto fino alla fine del ferro trentaduesimo e ultimo ferro tutte le maglie a rovescio il motivo è praticamente terminato per poterlo ripetere non dobbiamo fra altro che ripetere i ferri dal numero uno al numero trentadue naturalmente potete decidere come vi ho detto all'inizio di ripetere il motivo oppure per esempio prendere un solo motivo e posizionarlo ad esempio al centro rispetto agli altri che sono sotto e in questo caso facciamo diciamo dei fiori alternati il video il motivo sono terminati e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao